I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Catania, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Catania, hanno sequestrato oltre un quintale di cocaina all'interno del porto etneo. In particolare i finanzieri hanno controllato alcuni container appena giunti dal Sud America a bordo di una motonave adibita a tali tipi di trasporto e contenenti frutta tropicale proveniente dall'Equador. Sotto il tetto, all'interno della coibentazione del container frigorifero, sono stati rinvenuti 96 panetti di cocaina purissima per un totale di oltre 110 kg. Le successive attività di analisi hanno peraltro consentito di accertare una elevatissima percentuale di purezza di oltre l'80%. Per tali ragioni, affermano gli investigatori, la vendita al dettaglio avrebbe consentito di ricavare oltre 12 milioni di euro.